Per tre minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente per esprimere il nostro voto non favorevole su questo dispositivo, non perché non siamo d'accordo sul fatto che sia necessario informare. Tra l'altro questo è un punto che è presente nel nostro dispositivo, ma non possiamo essere d'accordo sul collocare la responsabilità di queste informazioni in un unico ufficio. Noi diamo mandato all'amministrazione nella sua interezza affinché questa informazione possa dispiegare i suoi effetti sui cittadini, a cominciare dalle scuole. Quindi pertanto la maggioranza darà il suo voto negativo. Grazie. A lei interviene in dichiarazione.